Nuovo bando per l'assegnazione delle case popolari a Ponte Cagnano-Faiano. E' quanto stabilito dalla Giunta Municipale con apposita delibera, che ha fissato i criteri del concorso che permetterà di assegnare gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica che si renderanno liberi di qui ai prossimi anni. Un provvedimento che arriva a quasi otto anni dall'ultimo bando integrativo, dal quale è scaturita la graduatoria tuttora in essere. Per presentare domanda si dovrà essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea e si dovrà dimostrare di avere residenza anagrafica o attività lavorativa nel comune di Ponte Cagnano-Faiano. Il richiedente inoltre dovrà dichiarare un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore a 14.000 euro nel caso in cui il nucleo sia formato da due persone più due ultra 65 anni o legato alle tre fasce fissate dalla legge. Grazie